me come va tutti ragazzi sono de conco 94 e oggi siamo tornati su un nuovo video siamo su dottor ladscoff la tigre e il terribile smeraldo questo è un gioco gratis free to play che ho scaricato da steam vi ricordate il videogame the stand and the parable quello diciamo un videogioco molto strano che devi scegliere che se te che devi scegliere la strada ecco sono gli stessi sviluppatori quindi ragazzi io mi sto preparando perché sicuramente morirò dalle risate non lo so adesso io ho letto alcune commissioni che questo l'hanno risultato positivo adesso noi andiamo iniziamo ho letto che cazzo sta pagina no dai non è possibile sono qua io sono qua eh ok dai sono pronto ah 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 ma sto malissimo dai no vediamo un po che cosa dobbiamo fare vediamo un po dottor nani da tigre bene che cosa devo fare? permesso sono ben ordinato la pizza permesso oh play me buzz per entrare una seconda please hold your first position there are somebody at the door okay i know one second can we get a professional case for? on the player, please ma due o no ciao salve so, this is, this is, so this is a bit, erm, this is a bit awkward i think it's probably better to be just really honest with each other it's, it, yeah it's, it's... cosa, cosa come non posso giocarci ma ma oh ah meno male cioè io ho scaricato giù il gioco ci ho messo anche delle ore eh grazie spero che lo faccio proprio eh trovo il numero se no chiamo io l'avvocato vado ma eh lo so ma ma io tiro sulla cornetta me la manda giù ah ecco no dove i could really i could i could really use your help but no if you'd rather if you'd rather wait here i could let you know when we're ready for you ma tu permesso publicità it's just you know why i miss out on this opportunity right e se invece voglio stare qua very few players get to visit here very few players get to visit here before we could even begin this morning ah davvero super simple it's mostly buttons you like buttons right and you'll be able to play the game as soon as whoever is in there at the moment is finished promise ma io non ti ho detto che ti voglio aiutare ma sta zitto si sto controllando aspetta si ma non è colpa mia e se tu hai ha detto qualcosa ma non ho capito ma io voglio entrarci dai fammi entrare vabbè dai aspetta i aspetta 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 ma aspetta c'era ma a a a Non posso lasciarti in là, scusate, è molto complicato, la salute e la sicurezza. Sono scopi, potresti magari non farlo? Ah, questi tipo sono i colori che devono mettere giusto per le varie cose, Rainstone, Garden, Escape... Vabbè, scriviamolo su. Sì, e se dove devo andare? Bello però! È una visione magica! Vabbè? C'è? In! Bene! Non, 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 non! Non, 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 non. No 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 Ma che cosa stai dicendo No è un trattino Salve tigrotta Salve Fammi uscire Fammi uscire Non toccare Ah la vero No 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 Cosa devo fare Ma io sto vedendo Videocassette Io sto vedendo Videocassette Matite Dappertutto Catlow Io pensavo che la tigre usciva fuori da qua Non c'è nemmeno uscita Bene Anche io Anche io Io sto tirando tre le leve anche quelle blu Sto prendere l'ombrello No 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 Too much Ok Ok siamo bene Ok siamo bene Ehm C'è una botta sotto la fana che rischia la fana e la fana Che attiva tuoni e fulmi E dove? Potrei fare la fana? Ah Scusate Oh, it might be wired up, I'm sorry, that room gets back. Now I think about it, it might be taking... Oh no, there it is, there it goes. You've got to picture the building lit up by these big flashes of lightning. It's really imposing. It's like a queen. Oh, speaking of, the player has apparently entered the mansion through the orangery. And a queen. They're going to use the lift. Oh, that's okay, we can do that. Right here. This way. Actually, wait, hang on a second, this is really important. Eh, di carro. Ah, quindi posso vedere. Ah, bisogna essere silenziosi, ok. Ah, quindi adesso gioca l'altro giocatore, dovrebbe entrare. È sempre lui, eh? Perché? But I have a feeling that the secondary interrupted button you pressed might have, might have closed the door out of the summer house on their foot. In any case, here's what we need to do. The player's going to come down the corridor and call the lift. And once the doors open and they get inside, they're going to press the down button. When that happens, all you have to do is pull the lever on this side. This lift was always supposed to power itself, obviously. This is just a hangover from rehearsals that nobody's got around to replacing. Questo sta parando, basta roger. We've got plenty of time, and actually, no, wait, here he comes, here he comes, shh, out, ice front, ice front, ice front. Wait for it. Ready? I don't want to press the bus. Do they hear us? No. io non lo premo il pulsante, non lo premo no, no, non te la tiro la leva no, no no, no, non te la tiro la leva ok, 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 we'll just wait, we'll just wait, shall we? come? bene, sì, ti aspetto, certo, certi, tu aspetto, certo, dai però, non è male però vogliamo un po' vedere, io dovrei andare anche un attimo in bagno no, JSON, esse, no, etc, dai su,rentiamoci la leva Oh mio Dio, stiamo andando Oh, non ho idea cosa succede Credo che non hanno mai sentito Sì, spero che non hanno mai sentito Sì, probabilmente non hanno mai sentito Almeno sono a loro parte ora In realtà, saranno molto occupati con il vault Potremmo iniziare a prendere le tecniche pyrotecniche per l'escapto E poi sei buono per andare C'è un luogo al workshop di Pyro Bene, allora possiamo andare nella Pyro Giusto? Quali stanza Pyro Quindi noi però siamo un giocatore Scusate che hai entrato dentro un altro Sta calmo, eh Che sto facendo il tuo lavoro Stai calmo, che se no Non sei iniziato È ok, posso capire Non ci vedo in una sega Voglio spendere questo Ci sto andando Stai calmo, eh Ma che co... Oh mio Dio, sei ok? Stai calmo? Stai calmo? Oh, sì sì Penso di sì Grazie Grazie Eh sì Eh sì Dica Dica Cosa 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 Che devo prendere tutte le cose qua Guardi Calciatore Sì, non è qui È strano Eh, ho capito Ho capito Ho capito Cioè Mi sta spiegando com'è il numero 4 Il numero 4 Il numero 4 Va bene Quattro Ok, va bene Non ti preoccuparti Non ti preoccuparti Non ti preoccuparti Penso che sia normale Sì Sì Non credo che sia un signore 5 7 2 1 2 1 1 Ah Ok, quindi quello che abbiamo fatto là C'è stato che era la vera cosa C'è stato che hai preso 9 E poi 4 E poi 1 Hai fatto tutto te? Cosa è questo? Oh, credo che abbiamo già fatto Cosa è questo? Cosa è questo? Dove? 5 2 1 5 6 6 6 8 7 8 9 7 8 2 7 8 1 2 1 sinistra come sinistra come 14 va bene ma non mi alzo sulla cornetta dai ma non so come si usa il telefono aspetta non va il nome non va va bene va bene andiamo andiamo che guardiamo con me ho fatto un casino via 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 no ci credo c'è il coso lì come c'è l'incendio come c'è l'incendio o cacchio no 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 ma io volevo tirarsi una cornetta ah si dimmi in che modo in che modo stradella dove no qua qua è la schiena ah quale pannello? quale pannello? quale pannello? ah dai 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 sto sentendo già un fuoco per favore ah ah eh si ma da dove esce fuori l'acqua mi scusi sta uscendo fuori da dove? dall'alto dei cieli? ah ci è arrivato il video giocatore ok eh si eh andiamo 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 va 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 mi stai facendo crepare oh meno male no 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 la porterò al mio avvocato ecco cosa faccio si sei certo dovevo andare dovevo andare ah grazie ma ma questa è la stanza sti imbiate andando in time? guardale Flood sono ace il tuo mio cuore è quindi come avevano il tuo cuore è veramente cominciato e io ci devo credere immagino è sempre lui che parla, ti scommetto, guarda cos'è sto BAFTA? cos'è sto BAFTA? che dici? questo qua continua a parlare posso entrare senza che parli? ok, può sentire, vediamo un po' ho sbloccato un obiettivo però non so cos'è vediamo un po' abbiamo fatto credo una specie di introduzione ah adesso noi siamo il giocatore che deve giocare e adesso c'è quell'altro che entra e fa tanta cosa nooo che figata no ma quelli che fanno questo deve essere una cosa la canzone questa è quanta abbiamo finito il gioco abbiamo finito il gioco no c'è un petta no c'è un petta signori allora questo era il dottor Langeskov la tigre terribile Smeraldo io pensavo che che era tipo un gioco diverso da quell'altro mi aspettavo mi aspettavo qualcosa cioè è stato divertente perché ho visto delle cose tipo soprattutto all'inizio cioè io non mi aspettavo una cosa del genere proprio però è bello mi aspettavo che magari fosse che io prima facevo quella cosa che seguivo lui dopo ero io che facevo il giocatore dentro nel gioco e poi c'era quell'altro che faceva tutte le altre cose cioè boh non lo so però è stato bello è stato divertente bello mi sono divertito allora signori spero che questo video game vi sia piaciuto se volete provarlo chi vuole se volete farmi anche aiutati potete scaricarlo tranquillamente da Steam se volete vedere video di questo genere potete lasciare un commento potete iscrivervi al canale lasciate un video con un commento e anche un mi piace a questo video se vi è piaciuto se volete lasciare anche una piccola donazione per sostenere il nostro canale potete anche lasciare vi lascerò le donazioni qua sotto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi